Che partita è stata? Un buon test perché serviva come test in preparazione della partita di Coppa che abbiamo domenica. Abbiamo mischiato un po' le carte, provato altre soluzioni che comunque possiamo provare in amichevole. Quindi è stata una buona partita, indipendentemente dal risultato. Quello che ci interessava era provare diverse soluzioni e l'abbiamo fatto. Domenica, ha detto Massimo, era stato tra i migliori. Ma anche oggi Strambelli, i giovani, l'ex Bari, Colenna... Sì, è una squadra, come ha detto giustamente lei, giovane. Perché in questo campionato i giovani sono fondamentali. Non devono giocare quattro obbligatoriamente. Abbiamo terminato la partita, avevamo sette under in campo. Quindi non è importante che i giovani crescano subito, che siano di qualità. Perché secondo il mio parere in questo campionato sono proprio i giovani che fanno la differenza. Mi intendo una domanda su che Bari ha avvisto e che campionato può fare questo Bari in farcito di giovani, ma anche con un po' di esperienza. No, anche il Bari è un'ottima squadra, poi non devo essere io naturalmente a giudicarlo. Però Junco, Caputo e Belluomo lì davanti, comunque sono giocatori rapidi che possono mettere in difficoltà qualsiasi squadra. È un gruppo che già si conosce da un anno. Secondo me è un campionato difficile quello della Serie B. Però come ha dimostrato l'anno passato, ho tutte le carte in regola comunque per potersi salvare. Grazie, ciao.